Una fiera esperenziale con corse per non vedenti e dialoghi in linguaggio LIS. La spiaggia di Torrequetta ha ospitato l'All-In Festival, l'iniziativa promossa dalle associazioni Gens Nova, Zero Barriere e Le Zanzare e che ha visto il coinvolgimento di altre realtà del territorio. L'iniziativa si propone l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza rispetto delle unicità e delle differenze di cui ognuno è portatore, una rassegna del diritto ad autodeterminarsi dove nulla è scontato e dove l'esperienza diviene strumento per la conoscenza del mondo utilizzando prospettive diverse. Gampri All-In dà la possibilità a tutti di correre su un circuito, quindi dà la possibilità a tutti di provare l'ebbrezza di correre su un tracciato. Adesso i ciechi si affronteranno in solitaria, sottriranno domani le carrozzine e poi udite udite spingitori di cavalieri, tutti potranno spingere un cavaliere su qualsiasi mezzo a due o più ruote perché vogliamo dimostrare l'universalità di poter provare una corsa in solitaria. Tutti hanno diritto a provare questa esperienza. In realtà avevamo tratto ispirazione da un modello che era nato in Lombardia e poi chiaramente noi l'abbiamo arricchito con i colori, con i trucchi, con quello che ci contraddistingue in realtà.